Cari amici dell'Orizzonte degli Eventi, buonasera, bentornati, benvenuti a tutti i nuovi amici di questo canale. Do nuovamente il benvenuto, è un po' che mancava dall'estate scorsa, ma è tornato Enrico Petrucci, ciao, benvenuto, bentornato. Grazie Barbara, grazie a tutti gli ascoltatori dell'Orizzonte degli Eventi. Ecco, e salutiamo anche l'amico... Porto i saluti di Emanuele Mastrangelo, che spera anche lui di tornare quanto prima per riprendere il discorso distopie dove l'avevamo lasciato. Allora Enrico, tu mi hai proposto una puntata su un personaggio che recentissimamente è stato portato al cinema in un film di buon successo e di buona fattura, come vedremo. Il personaggio è Salvatore Todaro, il protagonista del film Comandante, film del 2023 di Edoardo De Angelis, interpretato da Pierfrancesco Favino. Allora, io ho visto recentemente questo film Comandante, mi è piaciuto, mi è piaciuta soprattutto la seconda parte, quella dove si entra nel vivo di questo salvataggio in mare, e ti lascerei subito la parola per chiederti anche come mai hai scritto questo libro, che cosa ti ha spinto a andare a ritrovare questo personaggio della storia italiana. Sì, allora, Salvatore Todaro è una figura che viene periodicamente riscoperta, una figura di eroe di guerra, a suo modo un grande italiano che come i sommergibili in agguato si nascondono e poi vanno all'attacco. Tant'è che questo film Comandante di Edoardo De Angelis con Pierfrancesco Favino tecnicamente non è nemmeno la prima opera cinematografica ispirata alle gesta di Comandante di Salvatore Todaro, colui che disse che appunto il soldato italiano combatte contro il ferro delle navi, ma non contro gli uomini, tant'è che appunto in due occasioni, dopo aver affondato una nave nemica, mercantili nemici, affondate queste navi a colpi di cannone, un altro elemento che poi diventerà parte della sua leggenda, si pone nella condizione prima di portare a traino le lance con le scialuppe di salvataggio con i naufraghi e poi quando il mare diventa grosso, le lance non tengono più l'acqua, decide in due occasioni distinte di portare i naufraghi a bordo e continuare a navigare in emersione fino a farli sbarcare. Nel primo caso quello del mercantile belga Cabalo, su cui poi è incentrato il film, all'Azzorre, mentre pochi mesi dopo, per un mercantile britannico, lo Shakespeare, farli sbarcare a Capoverde. Una figura quasi leggendaria, nonostante lui abbia affondato soltanto tre mercantili in tutta la sua carriera di sommergibilista, è comunque ricordato assieme ai grandi assi dell'arma subacqua italiana, come Carlo Fecia di Cossato o Graziano di Pieroggia. Quindi una figura che periodicamente nel corso della storia è riemersa portandosi dietro un po' di storia, un po' di leggende, un po' di polemiche. La prima volta è nel 1953 con un film che è intitolato La Grande Speranza, film ampiamente di finzione in cui il capitano non è nemmeno riconducibile, capitano cinematografico, alla figura di Todaro, ma in cui, in questo contesto di navi affondate, navi recuperate, il mercantile belga è il cabalo, capitano del mercantile belga, il capitano Vogels, come nella realtà. Poi, alla fine degli anni 70, viene fatto anche uno sceneggiato televisivo, sommergibile 507, commissione d'inchiesta, che narra, anche qui inventando tutto di sana pianta, una situazione simile a quella del comandante Salvatore Todaro, tant'è che poi nelle riviste dell'epoca si parla apertamente che nonostante i nomi siano cambiati, nonostante la vicenda sia completamente reinventata, compresa questa commissione d'inchiesta che non ci fu all'epoca intorno al salvataggio dei navraghi, si riferiva appunto a questo comandante Salvatore Todaro che fin dall'accademia si era fatto notare come un personaggio assolutamente peculiare fuori dagli schemi, cosa che rimane anche nel film con Favino, perché appunto lo vediamo praticare yoga e soprattutto lo vediamo consultare questa specie di sarto mago stregone che sembra leggere il futuro in greco antico giocando con gli spilli di sartoria. Quindi sì, durante l'accademia, l'Accademia Navale di Livorno, Salvatore Todaro era famoso per i suoi esperimenti, quindi da ipnosi, paranoterapia, fino anche a sedute spiritiche, quindi una summa dell'esoterismo che si poteva trovare nell'Italia degli anni 20 e 30, addirittura vegetariano. Salvatore Todaro, padre originario della provincia di Agrigento, di Palma di Montechiaro, la madre era ferrarese, il padre era un ufficiale d'artiglieria, distanza nei vari forti marittimi lungo le coste d'Italia, nasce a Messina nel settembre del 1908, pochi mesi prima del terremoto, e poi il padre si sposta, quando Salvatore Todaro è ancora piccolo, nei forti della Laguna Veneta, prima a Pellestrina e poi a Chioggia, tant'è che a Chioggia viene considerato come un personaggio chioggioto, chiuzzoto, come si dice. Infatti anche nel film, Favino, si dà questo accento molto marcato, molto veneziano, così come l'accento del personaggio di Vittorio Marcon, ispirato dall'attendente di Salvatore Todaro nella realtà, anche lui originario di Chioggia, di Chioggia, quindi Veneto ad honorem si potrebbe dire. Ecco, ti chiedo una cosa, il sommergibile è un luogo cinematografico molto affascinante, come i film che si svolgono sulle navi, però i film che si svolgono all'interno dei sommergibili hanno un qualcosa in più, un po' per l'ambiente inevitabilmente claustrofobico e questo senso di costante pericolo che avvolge questi uomini sul fondo. Infatti ci fu un famosissimo film di Francesco De Robertis del 41, Uomini sul fondo, che è uno dei più famosi film italiani di quel periodo. Poi abbiamo avuto Caccia Ottobre Rosso, Allarme Rosso, K-19, un film anche sulla vicenda tragica del sommergibile russo, Kursk, ha fondato nel 2000, fu tratto un film nel 2018. Ecco, quindi è un genere che si presta a tirar fuori queste figure di comandanti particolarmente in grado di gestire delle situazioni anche molto difficili. Ecco, la vicenda che viene narrata nel film al comandante, dell'affondamento del mercantile Cabalo e poi del salvataggio del suo equipaggio, Superstite, quanto è aderente alla realtà? Cioè, tu hai riscontrato delle cose un po' aggiunte per fare scena oppure effettivamente è un racconto aderente a quello che si sa di quella vicenda? Allora, convergono più aspetti, nel senso che è sicuramente un film ragionevolmente fedele nell'elaborazione cinematografica della vicenda. Pure si prende alcune libertà, anche alcune piuttosto significative, sia un po' per giocare appunto con questo immaginario del film di Sommergibili, che è un qualcosa che ci portiamo dietro dagli albori del cinema. Già negli anni 20 si facevano film su Sommergibili, tra i primi film di Francavra c'è appunto un film su un Sommergibile che affonda il tentativo di recuperarlo, che indirettamente ispirerà anche Uomini sul Fondo di De Robertis. C'è una sequenza in Comandante che è quasi la copia conforme di una scena di Alpha Tau, che è il secondo film di De Robertis nel 1942, film su cui vale la pena fare un inciso perché rappresenta già i Uomini sul Fondo di De Robertis, aveva contribuito a definire una possibilità di neorealismo. In questo secondo film vanno ancora oltre perché a interpretare il Comandante del Sommergibile e dell'affondamento del Sommergibile britannico che è al centro del film c'è proprio Bruno Zelig che era il Comandante del Sommergibile italiano che aveva fondato il Sommergibile britannico, quindi una commissione di realtà, documentario, finzione che quindi si rielabora e diventa poi quello che diventerà il Neuralismo. Appunto, il Neuralismo ne avete già parlato, ne abbiamo già parlato anche noi, quello che conosciamo noi e quello post-bellico ma in realtà c'era già un elemento di neorealismo che poteva anche essere utilizzato per la propaganda. Ne abbiamo parlato assieme quando abbiamo dedicato la monografia a Alessandro Blasetti. Sì, su Blasetti che appunto abbiamo citato anche perché anche Blasetti è tra gli inventori del neorealismo e poi appunto sul neorealismo con post-bellico ne avete parlato con Mario e quindi ci sono degli omaggi al cinema italiano di Sommergibili, c'è un omaggio forse anche alla Grande Speranza che è l'altro film appunto del 53 che abbiamo detto rielabora la vicenda del Cappellini e dell'affondamento del Cabalo, quindi complessivamente non ci sono diciamo grosse storture, pure c'è qualche elemento che fa un po' storcere il naso allo storico sia appunto per alcuni dettagli uniformologici di cui si è anche parlato, come il cappello che era un po' preso un cappello da ufficiale un po' più imponente rispetto a quelli in uso e alcune sequenze che centrano poco con la realtà storica e quindi vanno un po' a inficiare il messaggio del film, anche se poi per chi non è addentro alla vicenda possono anche sembrare abbastanza plausibili in questo forse rispetto diciamo ad altri classici del film di sommergibili come U-Bot 96, la serie che poi ne hanno tratto, proprio perché il regista Eduardo De Angelis lo conosciamo più come un regista da festival, quindi con un occhio estetico e ha un linguaggio cinematografico un po' diverso dal cinema d'azione, è un po' meno ritmato rispetto al film di sommergibili canonico, però appunto riesce a fare un ragionevole compromesso tra realtà storica, plausibilità storica su cui magari ci torniamo perché appunto ci sono un paio di elementi che stonano un po' con la vicenda non soltanto di Salvatore Todaro ma con anche la vicenda del sommergibile Cappellini che sia Todaro è una figura assolutamente cinematografica allo stesso modo il Cappellini le vicende di questo sommergibile varrebbero bene una serie antologica in tutte le cose di cui è stato protagonista tant'è che c'è un film giapponese per la televisione del 2022 visto che parleremo anche di patatine fritte di stereotipi degli italiani canterini e sempre in cucina che raccontano la storia dell'ultimo viaggio del Cappellini in Giappone si intitola Sensui Can Cappellini e Noggo Boken ovvero le avventure del sommergibile Cappellini diciamo molto poco verosimile dal punto di vista della realtà storica però un omaggio comunque piacevole rispetto a quella storia già solo ricordare questi episodi è comunque un di più qualcosa che vale la pena fare e poi ci sarà tempo di approfondire tant'è che la mia idea di fare questa sorta di distant book su Todaro nasceva proprio da una delle tante leggende intorno a Salvatore Todaro che però non è nel film e che è la famosa frase una civiltà vecchia di duemila anni impone agli italiani doveri che gli altri copoli possono fare a meno di sentire quindi anche piuttosto ficcante per per questi tempi in cui appunto si tende si tende a dimenticare la storia e il passato questa frase secondo appunto la leggenda Salvatore Todaro l'avrebbe detta addirittura rispondendo all'ammiraglio Cardenitz che era il comandante in capo del Kriegsmarine la marina da guerra della Germania nazista sotto cui dipendevano i sommergibili italiani di stanza a Bordeaux in Francia perché all'inizio della guerra l'Italia dispone della più grande flotta di di sommergibili schierata in un unico teatro quindi quasi allo stesso numero e quasi lo stesso tonnellaggio dei sommergibili sovietici e dei sommergibili statunitensi però i sovietici su quattro mari gli Stati Uniti su due mari quelli italiani sono tutti nel Mediterraneo e i tedeschi dicono dateci una mano nell'Atlantico questa frase tutti dicono appunto tant'è che è stata citata persino dalla Meloni ad Atreio in chiusura del discorso che dice a Salvatore Todaro che rispose a un comandante tedesco all'ammiraglio tedesco e a me appunto questa storia sembrava un un falso una di quelle le storie che poi capita di leggere si trovano in tanti libri e quindi ho voluto approfondire anche approfittando del film dell'interesse intorno a questo personaggio per capire se l'aveva detta e a chi l'aveva detta allora sicuramente l'ha detta perché ci sono più di un più di una testimonianza sicuramente non l'ha detta all'ammiraglio Denis perché questa storia dell'ammiraglio Denis viene da un libro per le scuole degli anni 70 scritto da un padre salesiano Teresio Boscolo che pubblica questo libro nel 69 di Professione Uomini che è una antologia per le scuole con tanto di esercizi a fine capitolo dove ci sono storie edificanti da Kennedy Gandhi madre Teresa di Calcutta alcuni partigiani e anche Salvatore Todaro in cui mette assieme un po' di realtà storica mi inventa tante cose tra cui questo scambio di battute tra Denis e Todaro e essendo finito sui banchi di scuola di tanti ragazzi nel corso degli anni è entrata nella storia questa frase in maniera un po' diversa da come è andata quell'episodio che lui a un certo punto incrociano gli inglesi e chiedono di poter di poter passare passare ecco quello è vero no quello è il momento più basso del film proprio il momento in cui la verità storica va rotola via dal dalla pellicola sono tre la scena della mina che è un omaggio poi a Alpha Tau dove c'è la scena costruita allo stesso quasi allo stesso modo la scena dell'attacco aereo che è plausibile però è piuttosto romanzata per alcuni elementi tra cui il tipo di aereo ma in realtà non era così facile per un sommergibile in navigazione abbattere due aerei anche se appunto ci furono dei casi però tra i due era forse più possibile che fosse l'aereo a sfondare o danneggiare il sommergibile però anche quella diciamo ha una motivazione perché Salvatore Todaro dai suoi equipaggi era soprannominato il mago Baku come un personaggio del Marco Aurelio degli anni trenta e su cui poi ci sarà anche un era uscita una canzoncina e quindi era un personaggio abbastanza in voga tant'è che anche nella regia aeronautica ci sono come si dice delle nose art dei disegni di squadriglia che vanno come insegna quella del mago Baku poi sicuramente Salvatore Todaro era un buon un ottimo conoscitore della psicologia umana adorato dai suoi uomini quindi sia che avesse veramente delle facoltà paranormali sia che appunto fosse soltanto un bravo conoscitore di uomini si prestava a questa figura anche di asceta non mangiava carne praticava lo yoga la meditazione quindi chiaramente un mago quindi nella prima missione di guerra su un altro sommergibile perché lui prima di essere assegnato a Cappellini è assegnato a Luciano Manara naviga nel Mediterraneo tra la Sicilia e la Libia nella zona assegnata e si accorgono con ritardo che sono puntati da un short Sunderland che è un grosso idrovolante quadrimotore britannico che era la spina dorsale della lotta antisommergibile della Royal Navy mitragliano lo short Sunderland e riescono ad immergersi mentre si immergono dal periscopio ritengono che il Sunderland abbia perso quota e quindi forse hanno abbattuto l'aereo a questo punto gli uomini disegneranno sulla falsa torre sulla torretta del sommergibile la figura del mago Baku in realtà la storia appunto è un'altra perché quel quell'idrovolante non attacca il Luciano Manara semplicemente perché ha già attaccato e affondato un sommergibile italiano quindi non è così diciamo desideroso di dare la caccia alla preda perché appunto già c'è stato già come dire ha avuto successo però questo appunto testimonia il il fatto che lui appunto è il mago Baku e diventerà il mago Baku per i suoi equipaggi nel film comandante c'è questa scena in cui loro prima di arrivare alle azzorre per sbarcare i naufraghi si vedono puntare contro un cacciatorpedine britannico allora in realtà sia quando Salvatore Todaro nella realtà recuperò i naufraghi del cabalo sia nell'occasione successiva con i naufraghi dello Shakespeare non incontrò nessuno lungo la rotta perché siamo tra la fine del 40 e l'inizio del 41 gli Stati Uniti aiutano il Regno Unito aiutano la Russia la Unione Sovietica ma ancora non c'è la piena potenza della forza industriale quindi diciamo che non c'era tutta questa sorveglianza quindi si poteva ragionemolmente fare due giorni di navigazione in superficie senza senza problemi anche perché poi stiamo nella zona quella a largo delle coste dell'Africa quindi diciamo anche come quantità di traffico di convogli era leggermente minore alle rotte del nord atlantico tra Canada Nord America Irlanda e il Regno Unito che invece pullulavano effettivamente quindi la navigazione al netto appunto di imbarcare a bordo del sommergibile una ventina di persone una trettina di persone e quindi in questi spazi ridotti soprattutto per chi poi era costretto a stare in coperta in coperta quindi esposto alle onde sicuramente era difficoltosa però navigano in maniera abbastanza tranquilla la scena questa qua è ripresa proprio dalla grande speranza dove stessa situazione è stato appunto affondato il cabalo il cabalo ci sono i naufraghi a bordo ci sono i naufraghi nella falsa torre quindi allo scoperto se il sommergibile si immerge sono morti si vede all'orizzonte l'ombra di un di un caccia torpediniere di una nave non identificata e nel film di Duilio Poletti su cui poi la scena che era un altro specialista un po' come De Robertis di film di guerra di film di film di marina e oltretutto aveva come sceneggiatore un certo Marco Antonio Bragadin erede diciamo discendente di quel Marco Antonio Bragadin quindi un ufficiale della regia marina poi ufficiale della marina militare che si dilettava storico e sceneggiatore c'è questa bella sequenza carica di tensione in cui fino all'ultimo non sai se il comandante rischierà appunto di farsi scoprire il caccia torpediniere oppure di immergersi a rischio del condannando a morte parte dei di naufraghi che aveva ospitato a bordo quindi una sequenza ben ritmata ben costruita in cui fatalmente poi il cacciator pediniere cambia rotta quasi dopo una preghiera del comandante quindi possono continuare verso verso l'azzorra la scena nel film è appunto io l'ho trovata assolutamente insensata anche a livello di regia con questi ufficiali britannici che sono sembrano appunto pronti per una cena di gala per quanto sono in alto uniforme nel libro sceneggiatura che il De Angelis e Veronesi hanno realizzato e hanno fatto uscire quasi un anno prima del film praticamente c'è un monologo interiore di questo comandante britannico e io continuo a ritenerla ingiustificata ha un senso però diciamo ha un senso la cosa è ingiustificata anche per un altro motivo perché tra le tante vicende del del Cappellini abbiamo detto appunto che finirà in Giappone e dopo essere appunto stato ceduto ai tedeschi e diventato una nave tedesca nel maggio 45 dopo aver essere stato dopo la resa della Germania viene inquadrato nella marina giapponese e ci stanno a bordo ancora due tre italiani tra virgolette che decidono di di rimanere tra le tante vicende di cui compare anche il Cappellini c'è anche la tragica vicenda del dell'aconia transatlantico l'aconia che viene affondato da un U-Bot nel settembre 42 proprio perché ancora nel 42 tra virgolette era costume se c'era la possibilità ovviamente se non c'erano navi in vista aerei in vista un sommergibile anche un sommergibile tedesco magari emergeva un po' per prestare soccorso ma anche per fare intelligence quindi vale la nave magari prendere qualche ufficiale prigioniero quindi questo tipo di situazione quando viene affondato in l'aconia si rendono conto che è stato affondato una nave che trasportava civili e prigionieri per di più italiani con le guardie che impedivano ai prigionieri di salire in coperta per abbandonare la nave quindi migliaia di morti però ci sono prigionieri italiani ci sono civili e donne a bordo di questo transatlantico colpito e quindi il comandante di Ubot che ha fondato il laconia decide di aiutare i naufraghi anche Dönitz è d'accordo di far convergere nella zona altri due Ubot e due sommergibili italiani tra cui il cappellini a quel tempo Todaro non era più sul cappellini era passato alla decima massa questo grosso sforzo rischia di essere vanificato tant'è che appunto ci saranno anche dei morti perché gli Stati Uniti identificano più di un sommergibile in zona d'azione e nonostante vengano addirittura sventolate bandiere della croce rossa decino di attaccare perché perché non vogliono che si scopra che c'è una base dell'aviazione statunitense nell'isola dell'ascensione quindi per mettere tutto a tacere a questo punto guerra è guerra quindi nel settembre 42 gli alleati in un'occasione hanno cercato di affondare un Ubot lasciando appunto i profughi sulle Shalup i naufraghi sulle Shalup al loro destino quindi quella scena lì obiettivamente appunto per chi conosce un po' della storia della guerra di sommergibili della seconda guerra mondiale è totalmente falsata ma non è l'unico appunto non è l'unico elemento in cui forse Veronesi e De Angelis si prendono un po' troppe libertà io come ho scritto in una recensione del film per i Machiavelli quando ci sono queste vicende storiche così eccezionali lasciamo parlare la storia senza nulla aggiungere senza nulla togliere perché sono vicende talmente particolari che qualunque cosa che aggiungi sembra la rende ancora più finta una delle cose appunto che poi rimane anche intorno alle polemiche intorno a questo film che quando venne presentato a fine 2022 era quasi un film antisalviniano mentre poi quando è uscito tra la presentazione a Venezia e l'uscita in sala è come dire forse era diventato troppo filogovernativo tant'è che una cosa che io ho trovato ridicola ma che nessuno ha notato il film è stato presentato a Venezia con il titolo con un carattere tipografico carattere tipografico art deco anni 30 senza nemmeno diciamo connotazione art deco italiana in sala due mesi dopo il carattere tipografico del titolo era un altro quindi sinceramente l'ho trovato appunto e non è il carattere tipografico anni 30 che dovrebbe denotare un come si dice una connotazione politica la scena che appunto che mi ha convinto un po' meno invece sul piano del romanzare adattare la vicenda al cinema è la scelta quella dei naufraghi che tambure che battono i pugni intorno allo scafo del cappellino perché si è rotta la la scialuppa sono in mare il salvatore totaro interpretato da Pierfrancesco Favino non sembra all'inizio così volenteroso di ospitare i naufraghi quindi c'è questa scena quasi di rivolta popolare che magari li strizza un po' l'occhio a una lettura antisalviniana nella realtà salvatore totaro affonda a cannonate il cabalo si rende conto che appunto ci stanno 3 4 5 uomini in mare e li porta subito a bordo e poi si interessa delle due lance che ha visto partire quindi ci sono dei naufraghi raccolti fin da subito effettivamente l'idea di totaro è all'inizio quella di trainare le scialuppe anche perché sono in mezzo a nulla sono a 700 miglia dalle azzorre e tenendo a bordo soltanto i due tre feriti e appunto quell'ufficiale Reclalc che è il terzo ufficiale che appunto diventa il coprotagonista del film però le condizioni del mare diventano via via più faticose e quindi totaro porta a bordo tutti tutti quelli che può lasciando qualcuno nella scialuppa sperando appunto di così di poter andare più veloce e quindi arrivare prima a destinazione poi si rendono conto la cima si spezza addirittura un uomo del cappellini finisce in mare e viene recuperato dal da quelli della scialuppa perché non era proprio mare grosso ma comunque la situazione non era delle più delle più felici e quindi gradualmente lui si rende conto di doverli ospitare a bordo ma ripeto era di una decisione che è nata naturalmente forse hanno fatto un totaro un po' più cinico di come di come erano alla realtà però appunto a parte questi due tre momenti chi non conosce le vicende storiche lo trova che lo trova anche plausibile forse c'è anche la scena quella delle patatine fritte che tutto sommato forse si mangia un po' il film un po' gli stereotipi anche perché faccio un'altra battuta questa scenetta del poco napoletano che sa cucitare qualunque pietanza italiana che non ha mai sentito parlare delle patatine fritte è un po' suono un po' forzata se non altro perché nello stesso periodo andava in onda una pubblicità di un noto marchio di patatine fritte che rivendicava con orgoglio che a Milano nel 36 hanno loro inventato la patatina fritta moderna e per quanto poi ci sia stato un buon lavoro dei dialetti c'è il napoletano c'è il sardo c'è il livornese se uno si va a vedere i decorati del cappellini di queste prime due della prima e poi della seconda crociera atlantica erano quasi più i lombardi dei napoletani dei campani a bordo cioè era un clima sì di voci da tutta Italia però forse un po' meno meridionalista di come l'hanno raccontato nel film un cenno sui vari personaggi perché l'ho trovato una bellissima idea magari nei titoli di coda del film non si vede però se uno va a vedere su questi siti come IMDB dove ci sta tutto il cast tutti i nomi del cast quindi anche la comparsa il marinaio che si vede per due tre scene il nome che gli è stato dato è il nome di un vero marinaio del cappellini tra quelli che sono stati decorati la prima crociera atlantica quella dove è stata affondata il cabalo e quelli della seconda crociera atlantica dove furono affondati lo Shakespeare quello dove Todaro salva nuovamente i naufraghi e dell'Eumaus che è l'affondamento da cui poi è tratta la scena della morte del marinaio Stievovich e del marinaio Sardo che è preda di un'esaltazione guerriera quasi da guerriero berserker vichingo queste qui sono appunto scene vere storie del cappellini ma prese da un altro da un'altra crociera da un altro da un altro affondamento quindi c'è questa idea di omaggiare tutto l'equipaggio però la libertà maggiore forse se la prendono con con Vittorio Marcon che appunto diventa una sorta di sergente dei marines nostromo barbuto poi con questa ferita in testa con un bullone che spunta fuori quasi a creatura di Frankenstein rendendolo quasi caricaturale poi appunto l'attore bravissimo era già in altri film di The Angelis in realtà Vittorio Marcon era un marinaio più giovane che faceva soltanto l'attendente il comandante in seconda è Atos Fraternale anche lui compare in Litori di Coda a un certo punto si sente una voce un po' marchigiana perché era di Ancona che diventerà poi un asso un asso desommergibile l'incidente di Todaro che si vede all'inizio si vede questa scena con Todaro con una tuta una tuta verde una tuta da aviatore che cade in mare che quindi diciamo diventa una riflessione appunto sul senso di essere naufraghi quasi come appunto che la volontà di salvare i naufraghi in qualche modo derivassi dall'essere stato anche lui un naufrago in un certo senso che è una bellissima idea un bel concetto narrativo anche se poi sì Salvatore Todaro fu salvato dalle acque perché nel 31 lui prima di andare sui sommergibili evidentemente come quasi appunto a rimarcare il suo carattere comunque di essere un un coraggioso uno che attaccava appunto che affondava i sommergibili a colpi di cannone senza usare Siluri è imbarcato come osservatore su un S-55 gli idrovolanti quelli famosi perché sono gli stessi delle trasvolate di Bano in quel periodo la reggia marina non disponeva più di un'aeronautica perché era stato tutto inglobato nella reggia aeronautica però c'erano delle missioni congiunte come rimarranno durante la guerra e quindi ci potevano essere degli ufficiali di marina imbarcati a bordo di aerei ed erano impegnati nel mettere a punto dei Siluri per gli aerei quindi dotare la reggia aeronautica di Siluri quella che poi diventerà l'epopea degli aerosiluranti italiani durante la seconda guerra mondiale in realtà come tutte le cose all'italiana questa cosa avanti dal 31 al 35 poi la burocrazia della marina non si riesce a mettere d'accordo con la burocrazia dell'aeronautica e quindi nel 1940 si renderanno conto di aver bisogno di aerosiluranti però all'epoca appunto sembrava tutto funzionare a dovere durante un'esercitazione stanno volando a pelo sull'acqua lanciano il siluro il siluro cade male il mare è mosso solleva una colonna d'acqua che fa precipitare questo questo idrovolante quindi vengono recuperati dal flottiglia che era impegnata per l'esercitazione e Todaro si prende una frattura da schiacciamento alla sesta vertebra dorsale tant'è che rimarrà poi sarà costretto a portare un busto a vita e rimarrà poi per quasi un anno fermo per riprendersi tant'è che poi questa cosa è ribadita anche nel film sia per il busto sia poi per insistere questo rifiuto anche della morfina perché poi appunto anche in questo Todaro nella nella realtà lui avrebbe potuto congetarsi e prendere la versione di invalidità rifiuta la versione di invalidità e farà domanda solo a guerra iniziata per dire mia moglie la mia famiglia avranno qualcosa di più ecco una cosa che emerge dal film Todaro è un personaggio che è inquadrato nell'epoca in cui opera però nel film e questo forse era inevitabile si parla di siamo italiani ma non si dice siamo fascisti anzi sono i belgi naufraghi che all'inizio dicono questi sono fascisti quindi sono nemici c'è un po' un tentativo di diluire questo questo aspetto politico del far parte di un'epoca storica in cui eri la regia marina ok regia però eri anche al servizio del regime allora De Angelis e Veronesi si inventano diciamo un escamotaggio anche carino che è la canzone che si sente all'inizio quando loro si imbarcano che è un'ora sola ti vorrei canzone che poi questa è la vulgata non ho non ho approfondito appunto quanto è che nonostante fosse un grandissimo successo nel 1938 e quindi comunque fu un successo si dice che fosse un po' invisa all'ora perché un'ora sola ti vorrei per dirti cose che non sai poteva sembrare come un modo per ritornerlo per dire ah se potessi dire quello che penso non la manderei a dire quindi giocano un po' su questo Salvatore Totaro fu anche amico personale di Valerio Borghese però muore nel nel 42 quindi la traiettoria umana di Totaro non non sappiamo quale fu sono state ritrovate pubblicate di recente alcune lettere della resistenza della zona di Venezia alla moglie di Totaro quindi anche guardata con un certo rispetto anche se poi nel contesto della laguna tra resistenza e governo della RSI diciamo era una situazione un po' più particolare rispetto ad altre ad altre realtà però Salvatore Totaro fa parte come appunto molti hanno rimarcato della decima mass quella di Durand della Pen quella di Teseo Tesei cioè quella che fa azioni contro la Royal Navy nei porti nei porti nemici da soldato con un certo piglio d'avventura poi può suonare un po' antifascistizziamolo d'ufficio con la scenetta del cattivissimo marinaio belga che poi probabilmente non ci furono tentativi di sabotaggio quando questi erano imbarcati è una leggenda post bellica di Vittorio Marcon che appunto non tutto quello che dice Marcon è da prendere come dato certo che gli dice ah voi siete fascisti e il Totaro di Favino si arrabbia no noi siamo marinai siamo italiani così può suonare obiettivamente un po' forzata la battuta che fa a sbarco concluso in cui il capitano belga dice noi avremmo fatto altrettanto ci saremmo sparati e lui dice sì nel film siamo italiani ritorniamo sull'italiano brava gente che magari è anche un fondo di verità però appunto è un qualcosa di cui non non abusarne nel resoconto dei marinai belgi lui si limita a dire perché sono un marinaio quindi forse tornando all'idea un po' tra virgolette antisalviniana sarebbe come dire rimaniamo fedeli all'idea di partenza e quindi al dire lo facciamo perché siamo marinai sicuramente poteva essere accennato un po' di più magari bastava anziché fare la solita scenetta tra il livornese bestemmiatore e il marinaio meridionale super credente magari far capire che a bordo non tutti diciamo erano fascisti della stessa convinzione quindi magari come poi in qualunque film sui sottomarini sovietici che c'è appunto il commissario politico e il capitano che la pensa che la pensa quindi magari si poteva un po' giocare su quest'altro cliché sicuramente Todaro era comunque per quanto magari sarebbe stato più monarchico che fascista si faceva portavoce di un certo immaginario quasi quasi d'annunziano perché in una lettera alla moglie esordisce dicendo la morte coglie solo i vili e oserò tutto ciò che non è stato usato come il motto del sommergibile in questo caso il motto del manara così come la scena che è ispirata alla realtà quella dove consegna i coltelli al serramanico ai marinai prima dell'imbarco che poi appunto diventeranno artefici di altre sempre servire come insegna Chekhov se c'è un'arma in scena andrà usata la realtà era un po' diversa Salvatore Todaro per quanto vegetariano io oggi affondo la nave ma salvo l'uomo era comunque convinto di avere a che fare con una macchina da guerra e il suo equipaggio doveva essere sempre pronto quindi fin dagli anni di pace e poi nel 39 quando appunto le cose cominciano a diventare evidenti di fatto Salvatore Todaro si considerava perennemente in assetto di guerra tanto che altri ufficiali rimanevano stupiti dal vedere la rassegna prima della partenza dei dei battelli di Todaro con tutti gli uomini in rivista con il pugnale a fianco perché non perché appunto sogniamo di fare la guerra da pirati anche se appunto qualche altra testimonianza dice magari due corde di tela per l'abordaggio a bordo teniamole comunque perché non si sa mai non non è detto che un qualcosa perché non sta nei manuali di guerra di adesso non sia non capi di doverlo usare ma perché appunto ci teneva a un certo grado di di aggressività tant'è che appunto poi la scena quella del del marinaio sardo anche quella è ispirata alla realtà che appunto questo marinaio non si è rascostato dal pezzo nemmeno per asciugarsi dal sangue dal sangue non posso darti la medaglia ti do ti do il permesso di darmi del tuo e effettivamente Salvatore Todaro è una figura che ciclicamente è tornata alla superficie ma è stata tra virgolette buona per tutte le stagioni perché quando muore Todaro a dicembre 1942 ci sono gli articoli in prima pagina in terza pagina per ricordare la figura di Todaro firmati dai più grandi giornalisti dell'epoca Caporilli Orio Vergani del Corriere della Sera in cui si canta questa figura di militare di quasi di eroe omerico di figura che torna dall'antica Roma ma in un certo senso anche Re Clerc quello che poi è la storia dei marinai belgi dice se mi dovessi immaginare un gladiatore romano lo immaginerei con la faccia di Salvatore Todaro abbiamo detto era amico di Borghese perché era compagno di Corso e soprattutto quando lui viene dimesso dai sommergibili sia perché la vita dei sommergibili era difficile e lui già aveva problemi di salute sia perché Deniz ci teneva a far ruotare gli equipaggi quando torna a Livorno non sa che fare perché è mezzo in malattia non proprio del tutto quindi nessuno gli affida un comando l'unico che gli affida un comando è proprio Valerio Borghese ma anche perché l'incontro con loro a Livorno è poco dopo la vicenda di Malta dove muore Teseo Tesei dove muore Moccagatta dove muoiono praticamente gran parte del diciamo degli altri ufficiali della decima mass Valerio Borghese deve ricostituire il 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 raggruppamento e pensa appunto a Todaro perché tutto sommato per quanto malandrato in salute è comunque un un fegataccio come sarà fino alla fine quando muore in Tunisia sull'isoletta della Galitta nord della Tunisia dal ritorno da una missione che in realtà doveva essere già annullata c'è una pianificata una missione dei sommergibilisti della decima mass nel porto di Algeri l'undici dicembre quella del dodici dicembre nel porto di Bona con i mezzi di superficie alla fine dovrebbe essere ritardata tentano lo stesso un'incursione di fatto senza concludere nulla perché non trovano il porto tornano questa piccola base temporanea dove c'era la nave appoggio dei barchini della decima mass e nel sonno come tutti dicono aveva predetto perché Todaro ha detto io morirò quando non sarò sveglio vedono questo mercantile armato mitragliano e Todaro un altro marinaio muoiono nel sonno al ritorno dalla missione subito Todaro appunto viene glorificato dall'apparato della stampa del regime Ubaldo degli Uberti che era capo dell'ufficio stampa della reggia marina quindi il capo della propaganda della reggia marina gli aveva dedicato una monografia cannone Siluro per il Minculpop che esce all'inizio 1943 e addirittura nel dopoguerra il borghese dirà che il simbolo della decima mass della decima mass della repubblica sociale quindi il teschio con la rosa tra i denti era in omaggio a Salvatore Todaro perché non soltanto Todaro ha detto l'idea della bella morte concetto abbastanza in voga all'epoca ma anche appunto la bella morte come qualcosa di profumato quindi appunto il teschio con la rosa tra i denti quindi sì è un personaggio che poteva andare bene per la propaganda del 1942 la propaganda della repubblica sociale del 44 ma paradossalmente anche per chiave anti salviniana perché noi avevamo il sommergibilista che salvava salvava i naufraghi quindi nel contesto del mediterraneo di oggi è una figura da rivendicare tant'è che può essere una figura positiva contro un governo di destra o di centrodestra non tanto un paradosso ma infatti le grandi figure della storia permettono anche un po' questo questo forse è l'aspetto più interessante ecco quindi concludendo direi che è abbastanza curioso che un personaggio appartenente a un'epoca che sappiamo deve essere trattata in un certo modo personaggio che rappresenta l'eroismo maschile quindi anche qui in epoca in cui di lotta al patriarcato eccetera questa mascolinità interrompo perché poi dice anche al giovane belga mi raccomando fai tanti figli eh sì infatti ecco quindi anche questo esempio però lo fanno diventare l'eroe di un film interpretato anche da un attore di grande popolarità però forse come abbiamo fatto capire c'era un motivo per cui il comandante della marina che salva i naufraghi è il concetto fondamentale che deve passare per cui un po' il fine giustifica i mezzi se vogliamo poi in realtà il come dire il film è passato però forse non come i produttori si sarebbero aspettati perché a differenza del precedente libro di Sandro Veronesi in cui si ironizzava che del colibri sul Corriere della Sera erano uscite 40 articoli che magnificavano questo libro quando è uscito il film Favino ospite a 360 gradi non mi pare che De Angelis e Favino per comandante siano andati da Fazio e soprattutto mentre era al cinema comandante c'è stato un po' il barb italiano c'è ancora domani della Cortellesi che è stato veramente spinto oltre ogni ragionevole dubbio quindi la sensazione che a Venezia si sono resi conto che forse era un po' troppo poteva un po' troppo piacere a un determinato pubblico film troppo meloniano quindi c'è il finto neorealismo straccione che torna premotentemente quindi non abbiamo più il tra virgolette neorealismo di De Robertis ma torniamo appunto all'Italia straccione alla polizia militare per le strade di Roma con una commedia carina ben fatta con un buon ritmo ma che è stata diciamo presa come se fosse un saggio storico del voto per l'Assemblea Costituente che ripeto mi sembra veramente eccessivo quindi appunto alla fine il povero Todaro è ritornato sotto quota periscopio bene quindi abbiamo fatto un po' sia di recensione cinematografica che di rievocazione storica la cosa interessante adesso è magari andarsi a leggere il libro che ha scritto Enrico che costruisce il vero Todaro quello proprio la sì sì appunto partendo dal biografo di Todaro cerco di di raccontare questa questa storia separando un po' dalla memorialistica un approccio un po' più moderno sì io volevo scrivere un articolo per dire la frase sui duemila anni di civiltà che impongono agli italiani i doveri che altri non possono non sentire fosse un falso invece ho scoperto che non era un falso e quindi comunque mi sono un po' appassionato alla fine sei stato preso anche tu da bordo da questa da questa figura ma ripeto la storia del cappellini è affascinante paradossalmente con tutto che De Angelis è napoletano quindi chi più di lui può essere autorizzato a mettere un mandolino un fuoco napoletano in un sommergibile forse ben vengano queste operazioni probabilmente un po' il limite adesso al di là del Guardian che a Venezia ha stroncato il film dicendo no è proprio un cadeau per il governo Meloni non apprezzando nemmeno la scena totalmente inconcebibile della Royal Navy Cavalleresca che li lascia passare secondo me è stata messa per cercare di venderlo sul mercato estero probabilmente un po' troppo giocato su certi rimandi al cinema di casa nostra magari con un occhio un po' più da cinema di sommergibili potrebbe avere anche una speranza estra bene Enrico allora ti ringrazio per questo racconto e invito a leggere il libro ci rivediamo presto ci rivediamo in compagnia quanto prima per questa stagione di riuscire a fare almeno una puntata se no e poi anche presenteremo gli altri progetti che sia tu che Emanuele avete in programma di sfornare quest'anno bene grazie Enrico Petrucci e grazie a tutti gli ascoltatori grazie arrivederci grazie Grazie a tutti.